Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video, volevo fare un video a mente fredda perché veramente ieri è stato molto a caldo, appena finita la partita, pum, sono partito col video quindi è stato a caldissimo. Mi scuso se la voce o gli occhi lucidi o il naso rosso ma soffro di allergia al polline quindi durante la giornata mi stendo, veramente mi stende alla grande. Allora l'Inter ieri si gioca gran parte dello Scudetto perdendo questa partita, si gioca più o meno il 75-80% dello Scudetto con questa sconfitta qui. Se avesse pareggiato si giocava secondo me il 50 per un semplice motivo infatti era per quello che diciamo il pareggio mi dava fastidio, sarebbe stato cuocente ma c'era un piccolo dettaglio che poteva fare la differenza. Allora, il dettaglio sta, e questo fa rodere, è quello che io ieri proprio ero incavolato nero di averla persa perché non la dovevamo proprio perdere questa partita perché adesso se tu avessi almeno pareggiato con un pareggio del Milan, anche uno solo se tu le vincevi tutte, vincevi il campionato in autovatio. Invece adesso o ci vogliono due pareggi o una sconfitta, quindi devi perdere due o tre punti perché siamo a due punti di distanza, i scontri diretti abbiamo a sfavore e se la matematica non è un'opinione, servono almeno tre punti. E quindi o una sconfitta, che dubito accadrà, sono sincero, perché il Milan è una squadra che non è facile da abbattere. O la sdereni subito, tipo l'Inter al derby che gli ha fatto tre gol e stava 3-0. Oppure è una squadra che lotta fino alla fine, quindi se il risultato magari è sull'1-0 può essere che a cinque minuti alla fine fa l'1-1 e quindi la partita la pareggia. Magari non te la va a vincere se sta sotto in quella situazione, però pareggiarla la pareggia. Quindi non credo che perderà. E quindi sta di fatto che servono almeno due pareggi, almeno secondo me. Poi, secondo punto che ho già detto ieri mi pare, è che secondo me il Milan le prossime due le vincerà. Con Fiorentina e Verona, Fiorentina a pezzi veramente, che ha tante partite difficili. Viene da tre sconfitte di fila e non ha il morale diciamo altissimo. O si va a giocare veramente la partita dello spacca tutto, la partita della vita perché secondo me ci credevano andare in finale di Coppa Italia e aver perso in casa della Juve in quel modo poi gli ha dato una bella botta. Infatti secondo me vincerà. Lo svantaggio in più per noi è che il Milan gioca due ore prima rispetto a noi, quindi se vince va a un provvisorio più cinque. L'Inter con l'Udinese in formissima perché l'Udinese non perde da parecchie partite, da quanto ho visto, e che ha vinto 4-0 proprio con la Fiorentina, è una squadra molto fisica e costruita per non far giocare bene le squadre avversarie. Quindi noi soffriamo molto questo tipo di squadra e con l'Udinese in particolare abbiamo sempre avuto tante difficoltà. Pure all'andata ci è voluta un'ora, un'ora e mezza una serpentina di correa per segnare l'1-0. Quindi non è una partita semplice, giocheremo poi fuori casa, quindi anche questo conta perché magari ieri se avessimo giocato la partita in casa con la spinta dei tifosi sarebbe stato diverso secondo me perché si sarebbero fomentati di più. Però è difficile che la prossima giornata, questo weekend, recupereremo dei punti. Al limite rimarranno le distanze invariate, quasi spero che rimangano le distanze invariate perché secondo me se dovessimo vincere le due partite la giornata che veramente farà vedere se il Milan sarà campione d'Italia e con l'Atalanta, è la partita con l'Atalanta perché l'Atalanta adesso è in un momento di diciamo crisi tra parentesi e servono punti per andare in Europa, le servono dei punti. Quindi si giocherà la partita della vita anche lei con il Milan e spero che riesca a batterli. Ho questa sensazione, come avevo la sensazione che l'Inter almeno una partita la sbagliasse, ho la sensazione che l'Atalanta possa battere il Milan, non so perché ho questa sensazione. E quindi io devo sperare in quella partita, almeno per me, perché secondo me a Fiorentina e Verona il Milan vince. Ovviamente pensiamo partita dopo partita ormai, pensiamo giornata dopo giornata perché il destino non è più nelle nostre mani e dobbiamo vedere quello che fanno gli altri. La prossima ad esempio giocano prima loro. La settimana dopo giochiamo prima noi. La trentasettesima invece mi pare giocano prima loro? Sì, credo di sì perché noi giochiamo alla finale di Coppa Italia, quindi credo che giochino prima loro. E quindi è una, una e una, una e una, una e una e non si gioca mai in contemporanea. Però non fa niente. Le ultime giornate abbiamo giocato prima noi e abbiamo messo un sacco di pressione al Milan. È giusto anche che ci sia la cosa dalla parte opposta, ovviamente. E niente, quindi pensiamo alla giornata ormai, viviamo alla giornata e spero, spero che le distanze rimangano invariate per questa giornata perché la vedo molto molto difficile. La vedo difficile per l'Inter che dovrà dare una reazione da grande squadra e dovrà sperare un passo passo del Milan che almeno secondo me in questa giornata non avverrà. Come ho detto, la speranza dell'Inter di vincere lo Scudetto ormai è al 10-15% perché non è detto che il Milan le vince tutte, ma non è detto nemmeno che l'Inter le vince tutte perché le ultime tre sono quelle più abbordabili. Erano Udinese e Bologna che erano un po' toste. Però pure Empoli, Cagliari e Sampdoria non sto dicendo che le vinciamo in automatico. Però Empoli e Sampdoria, la Sampdoria dovrebbe essere già salva e l'Empoli è anche una squadra e comunque ha già dato tutto. Mentre Bologna e l'Udinese alla fine hanno delle buone squadre e sanno come mettere in difficoltà l'Inter e l'hanno già fatto vedere tante volte. Cioè il Bologna, ad esempio, ha fermato anche Milano e Juve, anche l'Udinese ha fermato Milano e Juve. Quindi sono squadre che sanno come comportarsi con le grandi e che non c'è una differenza tecnica tale da poter compensare quella fisica. Quindi questo è il dato di fatto. Niente, quindi ormai si pensa alla giornata. Volevo solamente fare un po' di calcoli che questa notte ovviamente sono venuti a me e credo a tanti interisti. Però il fatto è che non dipende più da noi. Dobbiamo solo sperare di vincerle tutte e che loro sbagliano. Un saluto a Winterfest e ieri mi sono dimenticato di dire sempre forse.